Ciao a tutti da salutatore, grandissima sorpresa, qui mi trovo con Simone Sabani Finalmente ci siamo visti, tutte le volte ci vediamo, ci vediamo Esattamente Col caldo non ci piace uscire, con il freddo e con l'umidità Esatto Però per una bella serata Per una bella serata, il premio Vincenzo Crocitti di cui tu sei uno dei premiati Sono stato premiato, sì, era il periodo di pandemia e questa sera finalmente siamo tutti insieme Quindi sarà una bella serata Questo è un incontro speciale anche per ricordare il tuo grande papà, il grande Gigi Assolutamente, è sempre una buona occasione Lui rimane nel nostro cuore col suo sorriso, con le sue imitazioni Cioè veramente dentro di noi c'è sempre È vivo nel ricordo del pubblico Esatto Mi dispiace che io sto cercando dove è l'obiettivo Quindi una volta guardo là, una volta guardo passendo un macello E' importante che abbiamo salutato Esatto Proviamo a divertirci Esatto E perciò io approfitto a salutare, a farti salutare tutti i fan di Gigi Sabani Ecco, ciao E ovviamente una sorpresa anche per te e per tuo padre insieme La manina del salutatore Ecco, questo ha pure rumore Esatto Se la giri di più, fa ancora più rumore Ancora più rumore Per salutare tutti quanti i fan Allora, grande Simone mi ha fatto piacere Ricordiamo i tuoi contatti Sul social Ah, sul social Instagram, Facebook Un po' buono Ecco qua Un ricordo Però le strade della vita è ancora meglio Ecco qua Un ricordo speciale del tuo magico papà Era umile Molto, molto umile Non lo perdiamo l'umiltà Che importante Esatto Io lo posso confermare perché andavo alla col di lana E lo incontravo e lo salutavo E lui sempre col sorriso Sempre disponibile Grazie Imparate Grande cuore Grande emozione averti conosciuto direttamente Un saluto a tutti Ciao